Chiara Ferragni ha scelto le pagine del Corriere della Sera per raccontare tutto sullo scandalo Pandoro e soprattutto su Fedez. Lei ha commentato subito su Instagram spiegando i motivi che l'hanno spinta adesso a parlare con la stampa. Sono stata zitta per troppo tempo, ora penso sia importante parlare e spiegare. E lo ha fatto davvero. Finalmente quindi Chiara Ferragni ha deciso di votare il sacco dopo che lo scandalo Pandoro le ha stravolto la vita. Al Corriere ha esordito così. Sono rimasta completamente scioccato, saputo la notizia dalle agenzie e contemporaneamente a tutti gli italiani. Per due mesi si è parlato di me come se fossi una criminale e incarnassi ogni male di questo paese. Quando è scoppiato il caso gli Eter non hanno attaccato Balocco perché dicevano che ci sono gli operai e le famiglie. Ma anche per le mie società lavorano 50 famiglie. Prima che uscisse fuori la notizia sulla ormai certa separazione dei Ferragni, Chiara aveva comunque rivelato giorni fa. Lui in tanti weekend non c'è stato, in altri c'è stato. Comunque mio marito è secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli, poi naturalmente qualunque cosa io faccia se ne parla. E poi è ritenuto corretto non sbandierare pubblicamente le problematiche private. Se la faccio con lui o se la faccio senza di lui è chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni. Ma per me piuttosto che dare spiegazione è più importante fare quello che reputo più giusto, tenere i problemi tra le mura familiari.